Per chi è costretto a pagare una multa, vede i suoi soldi svanire solamente dal portafoglio, ma per un ente pubblico, ad esempio, il punto di vista è diverso e si parla di investimenti. Sono 3 milioni di euro che l'amministrazione comunale di Rimini ha reinvestito nella manutenzione delle strade e più in generale per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza stradale, traendo il finanziamento della spesa delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice della strada. L'aggiunta comunale di Rimini ha infatti approvato, nell'ultima seduta, il rendiconto delle quote provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per l'infrazione del codice della strada e destinate lo scorso anno alla manutenzione delle strade, della segnaletica stradale, dell'educazione e della sicurezza stradale, agli interventi straordinari di rifacimento di pavimentazioni stradali. Tra i capitoli che hanno registrato nel bilancio 2018, la maggior spesa investita è stato 1.700.000 euro, quello delle spese di parte corrente della manutenzione delle strade e del patrimonio stradale, pari a 237.000 euro le spese in parte corrente per quanto riguarda la segnaletica stradale, tra le diverse spese finanziate da segnalare, quelle per l'educazione stradale delle scuole che ammonta a più di 13.500 euro complessivi.